Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la prima parte della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo che va in onda alle ore 15 da Radio Gamma 5. Allora, nella trasmissione di oggi, ne approfitto un attimino dei discorsi che sono cominciati con Franco per rifare un discorso vecchio, diciamo così, quel discorso che praticamente ci divide da Franco e poi farò un po' di notizie stampa, un po' di notizie recenti, di avvenimenti recenti che sono successi. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, indirizzo dell'Istituto Mediterraneo dei Studi Politeisti, Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Niente, il discorso praticamente che arriva quasi sempre a riproporci, a dirci praticamente le cose rispetto a una credenza comune di quello che sono le persone, si ripropone in continuazione e in continuazione si ripropone essenzialmente il primo discorso, cioè praticamente la concezione dell'inizio dell'universo che noi come pagani politeisti abbiamo in contrapposizione a quasi tutte, diciamo così, le credenze, al di là di come le credenze religiose lo manifestano. Io so benissimo che dal punto di vista della filosofia recente, cioè della filosofia che va dalla scolastica fino ad oggi, la concezione che noi diamo sulla qualità e l'origine dell'universo non è contemplata, però lo era contemplata fra gli antichissimi, cioè era contemplata sia fra i pitagorici che fra altri filosofi antichi. Il punto è che quella concezione dell'origine dell'universo è stata praticamente non solo dimenticata ma è stata anche piegata a quelle che erano le esigenze del monoteismo, praticamente del cristianesimo che ha posto con prepotenza all'origine dell'universo il concetto di creazione ex nihilo e quella creazione ex nihilo ha indotto al concetto di una volontà, di un assoluto che crea, programma l'universo, che ha volontà, determinazione, scopo, praticamente che è progettuale rispetto alla manifestazione dell'universo. In pratica dall'avvento del monoteismo abbiamo che la volontà, la determinazione e l'intelligenza escono dagli oggetti del mondo per essere appannaggio di un soggetto che è esterno al mondo, che è il Dio creatore, che è un assoluto, che è qualcosa di diverso del mondo, di cui magari il mondo è espressione, che magari contiene il mondo, che magari è parte integrante del mondo, come il panteismo, però abbiamo sempre questa separazione fra il mondo e gli oggetti che contiene e questo assoluto che in pratica programma, determina il comportamento degli oggetti del mondo. Questo avvento, questa concezione che avviene con il monoteismo e che però viene piegata in tante forme, cioè si manifesta sotto vari aspetti, perché ogni volta che le persone colgono delle discrepanze, colgono delle cose che non quadrano, cos'è che fanno? Cercano di spiegare l'origine dell'universo in maniera diversa. Pertanto noi abbiamo tutta una serie di elaborazioni che però sono tutte riconducibili alla volontà creatrice di un soggetto diverso da quello che è l'universo. O comunque anche se quel soggetto contiene in se stesso l'universo, cioè è assoluto inteso come il tutto, comunque in ogni caso l'intelligenza progettuale non appartiene agli oggetti interni dell'universo, ma è riconducibile a un oggetto esterno agli oggetti dell'universo. Questo modo di pensare, torno a ripetere, nasce con il monoteismo, prima il monoteismo non esisteva, cioè in tutte le filosofie precedenti questo concetto non esisteva nel modo più assoluto e categorico. Prima dell'avvento del monoteismo la filosofia si chiede come sia nato l'universo e cerca di darsi delle risposte, delle risposte che collocano anche dei fattori tipo Aristotele per esempio, il quale pensa ad un motore primo che dia il via all'universo, cioè a una messa in moto dell'universo, pensa a varie idee che vengono espresse, ma nessuno di questi pensatori esce dagli oggetti dell'esistente, cioè nessuno di questi pensatori nega agli oggetti, agli esseri, alle coscienze che individua nel mondo la loro individualità, cioè il loro essere e espressione di un altro essere, questo non era assolutamente accettabile. Anche gli esseri della natura, anche tutti gli dèi, non sono mai espressione di un Dio assoluto, cioè dall'attività di un Dio si genera degli altri dèi, dall'attività degli dèi si generano gli uomini mortali, ma gli dèi e gli uomini mortali hanno in sé la volontà, la determinazione, lo scopo, l'intelligenza, hanno la capacità in pratica di affrontare l'esistenza e di trasformarsi nell'esistenza e questo era prima dell'avvento del monoteismo. Questo concetto, secondo cui tutto l'esistente ha la qualità in sé stessa, cioè ha il potere, la determinazione, la volontà in sé stessa, proprio per la qualità dell'esistere. Infatti quando noi pensiamo al mondo, lo possiamo pensare il mondo perché il mondo è costituito dalla qualità intrinseca di trasformare ciò che è inconsapevole in consapevolezza, ma è una qualità dell'esistente, è una qualità della materia, è una qualità dell'energia, quella di trasformarsi da inconsapevole a consapevole e si trasforma da inconsapevole a consapevole per un processo continuo di sedimentazione, di sommazione. Non è che nasca qualcosa di assolutamente nuovo rispetto al precedente. In effetti questo fatto che non nasce nulla di nuovo rispetto al precedente, noi lo ritroviamo nelle teogonie antiche, dove praticamente gli dèi generano altri dèi, cioè è l'attività del Dio che costruisce le condizioni per cui altri dèi germinino, altri dèi vengano in essere, per cui l'attività del Dio in realtà non è che il Dio crea le persone, ma è l'attività del Dio che costruisce le condizioni affinché gli esseri vengano. I bambini nascono perché i genitori scoppano, così gli dèi, la loro attività è simile all'attività d'amore, è simile alla fusione, all'orgasmo cosmico, da quell'orgasmo cosmico si generano altri dèi, ma tutta l'attività degli esseri è un continuo orgasmo, nel senso che è una continua trasformazione dell'esistente e del presente all'interno del quale germinano e nascono nuovi dèi, nuove cose, nuovi uomini mortali, nuovi esseri della natura e così via. Però avviene sempre e mai come negazione di ciò che lo precede. Ciò che precede uno status, una vita, è ciò che ha costruito le condizioni affinché quella vita si generi. Ecco, questa trasformazione delle cose, questo divenire continuo non è dato perché una volontà esterna ha messo in moto tutto questo, ma è dato perché la materia, gli oggetti, l'energia di quello che noi siamo e che siamo circondati e che compongono la Terra, i pianeti, i soli, l'universo, lo spazio siderale ha la qualità di trasformarsi da inconsapevole a consapevole qualora incontri le condizioni affinché le consapevolezze germinano al di là di cosa noi consideriamo per germinare. Il pianeta, il pianeta Terra ha una sua coscienza, una sua consapevolezza, i pianeti e i pianeti, i soli, le stelle hanno una loro consapevolezza, la natura ha una sua consapevolezza d'insieme, gli esseri della natura hanno le loro consapevolezze, però ogni essere partecipa a un gioco all'interno dei giochi di esseri che hanno costruito le condizioni affinché venisse in essere, affinché fosse generato. Ebbene, noi possiamo pensare alla vita, possiamo leggere e immaginare la vita perché l'energia e la materia, l'energia e la vita e la materia poi sono la stessa cosa, hanno la qualità intrinseca di trasformarsi da inconsapevole a consapevole. Nessuna volontà esterna, nessun Dio, nessun padrone, nessun assoluto ha portato a questo, ma è questo che ha questa qualità. E questa qualità, naturalmente, il fatto di trasformarsi da inconsapevole a consapevole, obbedisce a delle leggi, leggi che sono proprie alle consapevolezze che vengono in essere, come a leggi che portano a nascere, a sorgere nuove consapevolezze. E noi tutto questo lo possiamo leggere nei comportamenti degli dèi, nelle varie teogonie antiche. Ebbene, riuscire a comprendere questo, che è il nostro discorso fondamentale, da cui dopo parte il nostro discorso del divino, il nostro discorso degli dèi, è la cosa più ostica che ci sia. Perché è ostica? Perché un individuo, per riuscire a comprendere questo e a riuscire a farsi travolgere dall'emozione, su cosa questo comporta, nel senso che la responsabilità della vita è solo sua, è una cosa talmente grossa, talmente enorme, che deve andare a superare l'intero condizionamento educazionale che ha subito. Ora, le persone, quando escono dal loro condizionamento educazionale, spostano gli elementi del condizionamento educazionale. Cioè, possiamo passare da una condizione del Dio padrone che anziché determinare il paradiso e l'inferno, determina una struttura per cui c'è la reincarnazione. Per cui a questo punto uno può passare dal concetto dell'inferno paradiso al concetto della reincarnazione, del concetto karmico. Cioè, in pratica può spostare un pochino quella che è l'idea che educazionalmente gli è stata imposta. Ma non può rivoluzionare al 100% a meno che non faccia uno sforzo notevole di trasformazione emozionale, di trasformazione soggettiva per riuscire a comprendere che non esiste nessun progetto dato. Lui ha questa e solo questa vita che deve sfruttare al meglio, perché dopo non è altre. Cioè, quella che è la sua coscienza, quello che è il suo essere, a questa occasione e in questa occasione, al di là delle condizioni che possono favorirlo o possono danneggiarlo, lui si gioca tutto. Dopodiché, se riesce in questa occasione a trasformare la morte del corpo fisico e nascita dal corpo luminoso, continua nelle sue trasformazioni. Se non ci riesce, il suo corpo degenera e la sua energia degenera, per cui tornano in circolo e tornano in uso. Un altro aspetto che le persone non riescono ancora a comprendere è che noi, è vero, siamo degli individui come persone, nel senso che io sono Claudio, un altro Alberto, Giovanni, Giacomo, Marisa, Rosanna, eccetera, però dentro a queste persone ci sono milioni e milioni e milioni di altri individui che pensano, progettano, programmano e programmano. E sono tutti i nostri virus, tutti i nostri batteri, c'è tutta la nostra flora che abbiamo dentro e le porzioni del nostro corpo, le singole cellule che hanno un loro progetto d'esistenza, anche loro tendono a trasformarsi per diventare eterni. Per cui non è solo io, Claudio, Simeoni, figo, boi, creato di maglia, somiglianza da un Dio pazzo, padrone, eccetera, no. Oltre a me ci sono tutti quei chili, perché si parla di chili, perciati quanti miliardi di miliardi di miliardi siano poi, di batteri e virus che dentro di me e le mie cellule naturalmente programmano se stesse. Sono altre tante coscienze, altre tante consapevolezze che programmano se stesse e tendono ad espandersi, vogliono vivere, vogliono esistere, combattono le battaglie, le battaglie di espansione. Voglio riuscire a farvi comprendere quello che è l'enormità di tutto quel processo di trasformazione dall'inconscio alla consapevolezza che non risparmia nessun anfratto dell'universo perché deve sfruttare qualsiasi situazione per costruire la coscienza universale. Una coscienza universale che non esiste, esiste invece l'energia che si trasforma da inconsapevole a consapevole attraverso le sue strategie. Ecco, questo è il concetto fondamentale del paganesimo politeista. Infatti gli dèi nel paganesimo politeista non sono i padroni assoluti creatori del mondo come vengono visti nel cristianesimo, ma sono invece parte della vita, sono coloro che costruiscono le condizioni affinché altri germinano. Pertanto chiunque di noi si comporta come un Dio, sviluppa la propria volontà, il proprio volere, le proprie passioni, le proprie determinazioni, trasforma se stesso non fa altro che costruire delle condizioni affinché altri esseri germinino. E questo è il comportamento degli dèi. L'essere terra, l'essere sole, l'essere atmosfera hanno costruito delle condizioni affinché germinasse l'essere natura. L'essere natura germinando ha costruito a sua volta delle condizioni per cui germinare è ancora meglio e produrre delle specie al suo interno. Questo è in sintesi il concetto fondamentale del paganesimo politeista. Non ha niente a che vedere con tutto quello che voi sentite delle altre religioni, perché il paganesimo politeista è più antico di qualsiasi altro pensiero. C'è una rottura completa fra il paganesimo politeista e il monoteismo e tutto ciò che procede dal monoteismo, compreso il neoplatonismo. Certamente noi siamo in grado di leggere le differenze sia filosofiche, sia religiose, sia etiche, morali, delle varie strutture monoteiste, però sta di fatto che in ultima analisi il principio fondamentale non è che cambia eccessivamente, anche se il bisogno di libertà degli uomini continuano a spostare il concetto e lo trasformano, cioè il concetto di assoluto, di franco, non ha niente a che vedere con il concetto di Dio padrone dei cristiani. Sono due logiche diverse e hanno due diversi comportamenti di sviluppo della vita, però noi sappiamo che la derivazione filosofica di quel concetto, la derivazione emozionale, le emozioni che si caricano su quel concetto hanno uno sviluppo che è altrettanto logico e che è anche leggibile nella vita delle persone. Per spiegarvi ancora meglio questo, non avevo intenzione di incominciare in questo modo la trasmissione, però visto che sono stato preso dentro, insomma va bene anche questo, io ho mandato sui gruppi una questione in sospeso dell'antico paganesimo greco ed è l'interpretazione del divino di Gaia, di Gea, ripreso dalla teogonia orfica. Ve ne ho già parlato quando feci la teogonia orfica, questo pezzo che adesso vi leggerò l'ho preparato prima per un forum e dopo l'ho mandato sui gruppi di discussione paganesimo ancora, vediamo un attimo quando, ancora a luglio diciamo così, a luglio di quest'anno. Per comprendere l'antica religione della Grecia antica, una questione in sospeso, l'interpretazione del divino Gaia Gea. A volte qualcuno si fa ingannare ed è su ingannarsi tra i benefici o coloro che lo vogliono ingannare. Non costruitevi mai idee preconcette, anche se so che è impossibile e nel caso agite sempre per modificarle continuamente. Chi ha idee preconcette ha preparato il terreno affinché il truffatore lo inganni agendo e manipolando le idee preconcette che gli si impone o gli sono state imposte. Un esempio di questo lo abbiamo nell'interpretazione di una divinità fondamentale nella teogonia esiodea. Si tratta di Gaia dall'ampio petto. Versetto 120 Dunque per primo fu Caos e poi fu Gaia dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vetta nevosa d'Olimpo e tartaro nebbioso nei recessi della terra delle ampie strade. Il versetto 130, sempre il re della teogonia esiodea, recita Gaia per primo generò, simile a sé, urano stellato, che la volgesse tutta d'intorno come fosse come fosse i beati, sede sicura per sempre. Generò i monti grandi, grato soggiorno delle idee, ninfe, che hanno dimora sui monti ricchi danfratti. Essa generò anche il mare infecondo, di gonfiore furente, ponto, senza amore gradito. Dove sta, questo è il versetto 130, dove sta l'idea preconcetta dell'interpretazione che pone le basi all'autoinganno. Sta nell'identificare Gaia con la terra. Perché sia un tale inganno? Per il fatto che chi commenta ritiene se stesso elemento centrale dell'universo, ritiene urano stellato cosa diversa dalla terra. Quando si dice che Gaia genera urano stellato, l'interprete dalla terra guarda il cielo, l'interprete immagina il cielo urano stellato come un corollario funzionante alla terra. L'interprete si è posto al centro dell'universo e dal centro dell'universo vede tutto muoversi in funzione della propria centralità. Però questo esiodo non lo dice, fa tutto chi interpreta esiodo. Proviamo a toglierci dal centro del mondo e vediamo la terra come un componente di urano stellato che nasce dal cuore di Gaia. La teagonia esodea diventa più logica e funzionale alla vita e è ciò che la scienza ha fino ad oggi provato e ipotizzato. Qual è la corretta interpretazione della divinità Gaia? Gaia è la sostanza su cui il presente e ogni presente manifesta se stesso. Sede sicura per sempre di tutti gli immortali che tengono la vita nevosa dell'Olimpo. Cosa significa questo? Significa che la sostanza sulla quale ogni immortale manifesta la sua coscienza di sé, quel io sono che separa un soggetto da quanto lo circonda, assiede una struttura fornita da Gaia. Da questo si ha la struttura logica. Gaia per primo generò simile a sé urano stellato. Il termine stellato indica la moltiplicità del suo esistere all'interno di una visione di insieme qual è l'universo come noi oggi lo vediamo e conosciamo. E prosegue attraverso questo a dar senso alla frase commentata precedentemente che si completa in che forse ai beati sede sicura per sempre. Allora qual è la divinità che si identifica con l'essere terra? E' Rea che unita al tempo crono pone le basi per diventare feconda. E' interessante come il tempo impedisca ai figli che genera di diventare fecondi e che solo sconfiggendo il tempo, cioè sottomettendo le proprie necessità, l'atmosfera Zeus sia in grado di rendere feconda la terra. Solo Zeus può alimentare l'essere natura, Hera, tutti i figli di Hera respirano e possono esistere solo respirando e solo Zeus può permettere di manifestarsi a Estia, Demetra, Ade e Poseidone. Ed ecco quanto ci racconta Esiodo nel versetto 470-475. E quando Zeus, padre degli dèi e degli uomini, prossima fu a partorire, allora pregò ai genitori suoi Gaia e Urano Stellato di darle consiglio perché potesse nascondere il suo parto, il figlio suo caro ed egli placasse le rinni del padre di quello e dei figli che divorava il grande crono dei torti pensieri. Costoro la figlia ascoltarono e i suoi voti esaudirono e a lei rivelarono quanto dal fatto era fissato avvenisse, riguardo a Crono, sovrano e al figlio del forte cuore. Ciò che fu rivelato era la possibilità che la vita si manifestasse sui pianeti qualora l'atmosfera si fosse impossessata dal tempo, Crono. Ciò che premeva a Rea era che la vita sgorgasse sul pianeta di cui ella era la coscienza stessa, Rea è la Terra. Gli antichi si sono ingannati, qualcuno si è impossessato dal loro inganno e ha sommato inganno ad inganno sottomettendo gli esseri umani. Hanno sfruttato la loro egocentricità per imporre loro il concetto di essere creati ad immagina e somiglianza ad un Dio pazzo. Oggi noi, ancora, pensiamo a Gaia come il pianeta su cui viviamo. In realtà dobbiamo pensare a Gaia come alla sostanza di cui siamo fatti e su quella sostanza appoggiamo la nostra consapevolezza, costruendo il nostro cammino di dei immortali. Questo pensiero ci porta a considerare Gaia in maniera diversa, in modo infinitamente più nobile e infinitamente più nobile diventa l'intento di Rea, di portare il proprio figlio ad impossessarsi del tempo. Noi possiamo onorare l'opportunità Gaia che noi siamo, facendola diventare attraverso le nostre azioni che fosse i beati, sede sicura per sempre. Questo ci riporta un po' a considerare Gaia come il discorso dell'assoluto. Infatti per il paganesimo politeista l'assoluto è la base di tutto l'esistente. Allora anche Franco dice che l'assoluto è il tutto, siamo d'accordo. Il problema è che noi a questo assoluto, cioè alla base di tutto l'esistente, non diamo né intelligenza, non diamo né progetto, non diamo né volontà, non diamo coscienza, non diamo scopo, perché tutto ciò che è la base dell'esistente non riconosce se stesso diverso da qualcos'altro. Però riconosciamo all'interno di Gaia la necessità, cioè riconosciamo l'esistenza di un movimento all'interno dell'energia vitale. Il movimento all'interno dell'energia vitale è quello che forma i gorghi, i vortici, che il veggente può individuare, e i gorghi e i vortici di energia vitale possono diventare coscienza di se stessi, cioè separare se stessi da un diverso di se stesso, sempre formato da Gaia, però circoscritto. Ed ecco allora la Terra, i pianeti, i soli, le galassie hanno in realtà una loro coscienza e una loro consapevolezza che identificano se stessi diverso da ciò che li circonda, però anche loro hanno necessità di espansione, hanno necessità di trasformazione e siccome la loro espansione, la loro trasformazione ha tempi, modi e situazioni diverse da quello che noi concepiamo, le nostre concezioni in realtà ci separano dai pianeti, dalla Terra, dal Sole e anche dagli animali. E dopo, beh, noi come esseri umani abbiamo fondato anche la ragione e allora i pitagorici avevano la ragione parlando di numeri, ma quello è un altro discorso ancora. Quello che però per noi è l'assoluto, cioè l'energia vitale che è supporto di tutto resistente, non ha intelligenza, non ha scopo, non ha progetto, non ha nulla. Ciò che ha volontà, scopo, progetto e coscienza sono i vari vortici che si costruiscono all'interno dell'energia vitale. Questi sono portatori di intelligenza, scopo, progetto, necessità di espansione e altro. Questi, a loro volta attraverso la loro attività, creano delle condizioni più favorevoli affinché si formino altre vortici. Noi stessi nascendo siamo in realtà un vortice, un vortice di energia. I batteri dentro di noi sono altrettanti vortici di energia, i virus sono altrettanti microvortici di energia. Vortice dentro vortice costruisce sì dei vortici più grandi, però dà l'indipendenza al vortice più piccolo. Il vortice più piccolo agisce in sintonia del vortice più grande, però soltanto costruendo le proprie strategie di esistenza. Per cui l'equilibrio è dato dalla singola coscienza di sé che di volta in volta si generano all'interno di un insieme con delle specificità e delle necessità attraverso le quali andare a organizzare la propria volontà, le proprie strategie di esistenza. Io non batterò mai le ali e non volerò mai battendo le ali. Se volo prendo un aereo, ma non batterò mai le ali, almeno come fanno gli uccelli. Perché? Perché il mio divenuto, il mio vortice mi preclude questa organizzazione fisiologica. Pertanto le mie strategie sono relative a ciò che sono e proprio agendo all'interno di ciò che sono che vanno a costruire la mia eternità. Esattamente come le mie cellule del mio cuore costruiscono vortici e si trasformano in le loro strategie in quanto cellule del mio cuore. Nessuna cellula del mio cuore penserebbe mai di trasformarsi in una cellula del mio piede. Non li verrebbe mai in mente questo. Le sue strategie di esistenza sono all'interno di questo essere cellule del cuore. Perché la loro specificità mantiene i dati per le loro strategie di espansione e per i loro processi di eternità. Questo è tutto. Non so se sono stato abbastanza chiaro. Però è un discorso che ormai facciamo da quasi 8 anni e secondo me dovrebbe già essere abbastanza chiaro. Però chiaramente questo discorso ha tutta una serie di implicazioni. Perché chiaramente io a questo punto se il centro della mia azione è lo sviluppo di me stesso, è lo sviluppo degli enti che esistono, è guardare il futuro, è costruire e fondare il futuro. Chiaramente le strategie di esistenza sono diverse da quelle che abbiamo nelle altre religioni che invece bloccano l'individuo all'interno di una verità. Le strategie di esistenza sono diverse. I modi di affrontare la realtà sono diversi. Per cui è chiaro che a un certo punto, dato questo come base di partenza del nostro pensiero, naturalmente il discorso pratico, il discorso all'interno della vita quotidiana cambia completamente. Perché io ho lo sguardo proiettato al futuro, perché io non ho una verità che viene fondata nel passato, magari rivelata da un povero demente e alla quale io mi devo sottomettere. Ma ho un processo di libertà, c'è un processo attraverso il quale devo rimuovere gli ostacoli che bloccano il mio sviluppo. Allora ho una strategia di individuazione degli ostacoli che bloccano lo sviluppo e ho una strategia di rimozione di quegli ostacoli che deve essere tale da penetrare nella mia parte interna del cervello, nelle mie emozioni, nella mia struttura psichica. Chiaramente tutto viene a cambiare dato come noi pensiamo l'inizio e come noi ipotizziamo la fine. Dopodiché torno a ripetere, io ho avuto la fortuna di avere queste visioni, cioè di avere questa alterazione di percezione che mi ha portato a modificare le mie emozioni proprio all'interno di questa alterazione di percezione. Per cui per me è abbastanza facile vedere tutto questo, percepire tutto questo e trasmetterlo perché dopo diventa discorso logico, diventa discorso filosofico, diventa un discorso sociale, diventa altre cose. Però alla base di questo c'è la modificazione della mia struttura emozionale che è avvenuta attraverso le visioni e attraverso naturalmente anche la pratica di vita, cioè la mia particolare pratica di vita. Questo ha modificato quello che è stato la mia struttura attraverso la quale guardavo il mondo. Per cui adesso mi viene facile, però io riesco a capire le persone che hanno delle fatiche enormi per riuscire a comprendere questo perché si trovano a vivere quelle persone senza nessun punto d'appoggio. Cioè improvvisamente una persona che credeva in un Dio, credeva in una Madonna, credeva nella figa della Madonna che doveva per forza essere vergine, non si capisce mai bene perché, improvvisamente che aveva dei dogmi, che aveva dei punti di riferimento, che aveva delle verità che non si doveva mettere in discussione, si trova senza niente, che è peggio che essere nudi, a dover affrontare la vita consapevoli che non hai più niente ed è come se ti fossi disarmato di tutti gli strumenti che è il condizionamento educazionale, che è vero che condiziona le tue sensazioni, il tuo modo di vivere, però ti fornisce anche gli strumenti per difenderti, perché c'è Dio, perché c'è il castigo, perché c'è l'inferno, perché c'è la reincarnazione che può andare bene o può andare male, perché c'è questo a un certo punto non hai più nessun punto d'appoggio e non hai ancora gettato le basi per afferrare quegli strumenti che ti portano invece a costruire la vita in maniera diversa e questo è un momento effettivamente di sbandamento psichico-emozionale che è ferocissimo nei confronti delle persone. Pertanto so benissimo cosa significa portare questo alle persone, ma torno a ripetere, è un discorso che facciamo fin dall'inizio di queste trasmissioni e noi non vogliamo convertire nessuno a questa idea, non vogliamo cambiare le idee delle persone, noi vogliamo soltanto lanciare un ancore affinché quelle persone che hanno le sensazioni di percezione che il mondo è un insieme di esseri viventi, un insieme di esseri che costruiscono se stesso, per cui un mondo sacro significa enti che costruiscono loro stessi e che in loro stessi vediamo noi stessi le nostre strategie, gli stessi dei che si muovono dentro di noi, vogliamo che queste persone abbiano un punto di riferimento per cominciare ad armare la loro sensibilità e questa è l'azione che stiamo facendo noi. Che dopo noi abbiamo ragione, non ci piove sopra, noi abbiamo ragione in senso assoluto, non è che abbiamo un minimo di torto, perché abbiamo ragione in senso assoluto, perché non pieghiamo nessuna persona a una verità rivelata, non diciamo a una persona che tu devi pregare o devi sottometterti o devi piegare te stessa, noi diciamo a una persona che devi liberare quello che ti costringe, quello che ti blocca, quello che ti toglie il respiro, devi togliertelo di torno, per cui devi cominciare a respirare a pieni polmoni e ad affrontare la vita e non lo diciamo a persone che sono deboli o che hanno problemi, ma lo diciamo proprio alle persone che apparentemente non hanno problemi perché, torno ancora a ripetere e mi ripeto ancora, si impara a nuotare quando si è in sicurezza, cioè si impara a nuotare quando si va in piscina, quando ci si allena, quando si affronta con tranquillità le cose, perché quando i problemi ci affogano, quando arriviamo ai problemi, siamo immersi nei problemi come in un pantano, là è meglio non aprire neanche bocca, è inutile affrontare che l'individuo affronti quella situazione, doveva pensarci prima, è prima quando si sta bene che si devono incominciare a preparare se stessi per affrontare, quando ci è immersi nella merda, là bisogna soltanto chiudere la bocca e sperare che le cose in qualche modo si svolgano al meglio e la situazione non sia disastrosa, se si è forniti precedentemente di strumenti, di cognizioni, di modalità per affrontare quelle contraddizioni, allora le si sfruttano, ma se prima non lo si è fatto, non lo si fa in quel momento, infatti tutte le persone che sono rivolte a me con problemi, le ho sempre mandati, non dico a quel paese, ma ho detto sempre di rivolgersi a quello che sono gli organi istituzionali, perché non è possibile che una persona si svegli quando è nella merda fino al collo, non è assolutamente possibile questo, è bene che le persone abbiano una sensibilità e cominciano ad attrezzarsi prima, dopo è troppo tardi e dopo si fa quello che si può. L'arte della stregoneria, diceva Don Juan, il maestro di Castaneda, non ferma la pallottola che mi sta colpendo, che mi sta venendo addosso, l'arte della stregoneria è l'arte che mi porta a non essere davanti a quella pallottola quando uno decide di sparare, quando la pallottola mi viene addosso, me la prendo, punto e basta, quando il problema mi viene addosso, me lo prendo, punto e basta, quando sono licenziato me lo mangio e cercherò qualcos'altro, dopo bisogna risolvere il problema, non c'è niente da fare, quando invece i problemi non ci sono, ci si può attrezzare, costruirsi, organizzare la propria cultura, la propria conoscenza, organizzare la propria struttura emozionale, la propria capacità di percepire il mondo, in modo di affrontare continuamente i piccoli problemi che sono nella quotidianità. Quando noi impariamo a affrontare di petto i piccoli problemi che sono nella quotidianità, ci accorgiamo di essere in grado anche di superare dei problemi più grossi e così più sfide noi affrontiamo e più noi ci rafforziamo per sfide ancora più grosse. Chiaramente non dobbiamo travolgere il mondo, non è questo il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è rimuovere gli ostacoli che impediscono la nostra espansione soggettiva, ma per farlo dobbiamo affrontare il mondo oggettivo e lo dobbiamo affrontare con consapevolezza, cioè dicendo io sono, io esisto, io progetto la vita, è inutile che mi attacchi a qualche maniglia, come dice Franco. Bene, per ora il discorso questo è tutto, dopo vedremo qualche telefonata. Voglio agganciarmi con un articolo di giornale a questo discorso che è tratto dal Corriere della Sera del 18 agosto 2003, l'articolo dice uno studio americano afferma le emozioni influenzano il sistema immunitario, ogni cosa ci rimedio salvo che la morte è il guasto di una pietra preziosa, è la volpe che lo dice al lupo riferendo i consigli dei saggi dell'Oriente delle mille e una notte. Che prendere le cose con filosofia serva a vivere meglio è abbastanza scontato, ma nessuno lo aveva mai dimostrato in modo convincente. Ci sono riusciti in questi giorni il ricercatore di Pittsburgh, uno studio appena pubblicato su Psychosomatic Medicine, fa vedere che gli ottimisti e che non si fa troppi problemi di fronte a difficoltà piccole e grandi della vita, resiste alle malattie virali, si ammala di meno, in una parola resiste meglio ai virus. Bene, questo l'articolista dice le solite cose di sempre, ma in realtà se un soggetto, se un individuo affronta la vita con determinazione, con passione e con piacere di affrontare la vita, tutto il suo corpo riproduce questo, cioè tutto il suo corpo viene rivitalizzato. Chiaramente rispetto a una persona invece che è pessimista, che è abbattuta, tutto il corpo si ammala. Però in realtà noi abbiamo anche il contrario, tanto più lentamente scorre l'energia vitale dentro di un corpo e tanto più questo individuo avrà problemi, sia dal punto di vista mentale, sia religiosi, sia etici, sia morali e tanto più facilmente si ammalerà. Tanto più una persona affronta la vita con passione, ha l'energia vitale che scorre e tanto più affronterà la vita con passione. Le due cose sono in relazione dialettica fra di loro, noi però dov'è che possiamo agire? Non possiamo, o meglio potremmo, quando parliamo del corgiolo dell'ostreone facciamo scorrere l'energia, ma questa è una tecnica. Però per far scorrere l'energia noi dobbiamo vivere per sfida, dobbiamo vivere con passione, dobbiamo vivere con dedizione, dobbiamo vivere con scopo, con intento, con progetto, piccoli o grandi che siano. Si progetta anche nelle cose piccole, non è che si progetti in chissà quale progetto. Ebbene, questo mette in moto la nostra energia, questo rivitalizza e sistema il corpo. Chiaramente, praticando il corgiolo dell'ostreone, ascoltando le correnti vegetative, si ha una rivitalizzazione anche ascoltando le correnti vegetative. Però alla fin fine non è che si ascolta le correnti vegetative per rivitalizzare il corpo, si ascolta le correnti vegetative per affrontare meglio le sfide della vita. Per cui alla fin fine chi vi fa star bene, chi vi fa affrontare meglio le situazioni virali, gli attacchi di virus, di batteri o delle malattie, non è altro che il modo con cui viene affrontata la vita. In realtà il monoteismo, il cristianesimo è una questione di malattia. Le persone che sono cristiane in realtà sono persone malate, la loro energia è bloccata, essi confidano in un agente esterno, in un ente esterno, non traggono nulla da se stesse e bloccano quelli che sono i propri flussi energetici. Il primo attacco di virus praticamente sono distrutte. Questo non significa che un virus da polmonite non vi può ammazzare lo stesso. Il punto è che la banda di resistenza alla polmonite viene allargata. Se prima resistevo a un attacco di virus medio, adesso posso resistere ad un attacco di virus maggiore. Ed è praticamente anche gli elementi di statistica che si hanno quando ci sono delle epidemie, dove una percentuale di persone resiste agli attacchi epidemici e un'altra percentuale di persone invece viene annientata subito. È una questione proprio psichica, psicologica, emozionale dell'individuo. Ed è il modo con cui l'individuo va a affrontare la vita. Chi rinuncia alla vita confinandone nel Dio padrone non fa altro che distruggere se stesso. Ed è una questione di malattia. Allora, vediamo un attimino cosa ci dà la stampa in questo periodo. Io ho saltato una trasmissione, Francesco oggi non ha potuto venire. Abbiamo la Repubblica del 28 agosto 2003, Alabama, via le tavole dei dieci comandamenti, Montgomery. Fra gli ini evangelici che imploravano il perdono celeste e gli applausi dei laici è stato rimosso ieri il monumento ai dieci comandamenti innalzato da un giudice fondamentalista davanti al Palazzo di Giustizia e Montgomery in Alabama. Il blocco di granito di due tonnellate e mezzo è stato asportato da una squadra di traslocatori. Si chiude così una disputa che da due anni opponeva i fedeli più conservatori del sud religioso ai fautori della separazione tra religione e Stato. In realtà i dieci comandamenti sono una grandissima porcata, sono veramente una vigliaccata infame. Il problema dei dieci comandamenti, la cosa più a di là poi sono superficiali, non dicono assolutamente niente, sono abberranti sotto molti aspetti, ma a dire di questo è che non si applicano al Dio Padrone, cioè la legge il Dio Padrone la impone praticamente ai servi, agli schiavi, agli adoratori del Dio Padrone. Il Dio Padrone dice alle persone voi siete le mie bestie e per continuare a essere le mie bestie dovete comportarvi in questo modo e che è una cosa assolutamente abberrante che non ha niente a che vedere con quella che era la società giuridica del tempo. Una società giuridica del tempo per esempio si fanno avvicinare i dieci comandamenti a quelli che sono il codice di Hammurabi, ma il codice di Hammurabi non era fatto per imporlo ai cittadini, il codice di Hammurabi erano leggi che venivano imposte al sovrano, cioè praticamente le leggi del codice di Hammurabi erano delle limitazioni della discrezionalità del sovrano, cioè il sovrano anziché essere un sovrano assoluto si rimetteva a quelle leggi. Brutte o cattive vecchie che fossero, praticamente il governo, lo Stato limitava la sua capacità discrezionale sulle persone. Nei dieci comandamenti è l'imposizione del Dio padrone alle bestie che devono stare sottomesse, per cui il Dio padrone che ammazza tutti, cioè che fa strage dell'intera umanità, dice agli uomini voi non dovete uccidere, è solo da spottargli il muso e basta. E giustamente va rimossa sta roba perché era effettivamente un'aberrazione, ma i cristiani non hanno mai capito in realtà neanche le proprie leggi. Da Il Gazzettino del 26 agosto 2003, Stati Uniti, esorcismo, muore, bimbo, autistico.